Non carica autostoppisti? Grazie eh, gentilissimo Quindi gli affari vanno bene Sono un manager, anch'io lo ero sa Ma lo sai che la sua ex moglie è davvero incantevole? Non è che si sta innamorando di Margherita eh? Ma che innamorando, scherzo Per carità, sua moglie è una donna... Incantevole Grazie a tutti